Ciao ragazze, in questo video tutorial vediamo come ottenere dei bei colori forti su un capello scuro Se desiderate un bel colore ramato, oppure rosso, oppure come nel mio caso rosa per prima cosa dobbiamo decolorare i capelli e diventare bionde Ho usato il decolorante a 20 volumi, è perché io avevo già colpi sulle lunghezze per prima cosa l'ho applicato soltanto alla radice l'ho lasciato per 20 minuti, dopodiché l'ho tirato su tutte le lunghezze per ancora 10 minuti passati i 30 minuti l'ho sciacquato Grazie a tutti 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 Grazie a tutti